Una prima parola fine su una vicenda tristissima, quella dello scambio delle salme di due anziane avvenuto nell'obitorio dell'ospedale di Cittadella lunedì. Nel pomeriggio a San Giorgio delle Pertiche si sono svolti i funerali di Gabriella Squarise, l'anziana scambiata per Petronilla Signorini, morta come lei il 28 luglio a Cittadella, sepolta per errore lunedì mattina a Tremignon di Piazzola. Quasi in contemporanea a Tremignon ha trovato degna sepoltura anche la signora Petronilla, il funerale di Gabriella era stato annullato dai familiari che all'obitorio lunedì pomeriggio non avevano riconosciuto la loro cara, da qui la ricostruzione di quanto accaduto. Per un errore al figlio della signora Petronilla lunedì era stata affidata la salma di Gabriella inumata dopo il funerale a Tremignon di Piazzola, mentre i familiari attendono forma di scuse e stanno valutando richieste di risarcimento all'Ulss 6 che ha avviato un'indagine interna, dal tardo pomeriggio di oggi Petronilla Signorini a Tremignon e Gabriella Squarise San Giorgio delle Pertiche possono riposare in pace.